Ciao, sono Luzio Quattroocchi e oggi andremo a ricordare alla gente che devono morire. Volevo ringraziare il mio collaboratore Andrea per essersi prestato alla Camera. Ciao Andrea Castelli e faremo grandi cose insieme. Ricordati che devi morire! Sì, no, ora me lo segno proprio. C'è una cosa... non mi preoccupare. Ricordati che devi morire. Va bene? Ricordati che devo morire? Sì, ricordati. Perché? Perché significa? Prima o poi. A pagare tu, no? Sì. Penso che non credo di te, ragazzi. Ciao. Ciao. Ricordati che devi morire. Ricordati che devi morire. Ma che ricca così? Sì. Va bene. Grazie. Allora morire, eh. Ricordatevi che dovete morire. Ricordatevi che dovete morire. Eh, lo so, ma anche voi. Eh, va bene. Ricordatevi che dovete morire. Ricordatevi che dovete morire. Ricordati che devi morire. Prima o poi. Va bene. Grazie. Ricordatevi che dovete morire prima o poi. Prima o poi. Ma tu che non va a morire. Certo. Sì. Il mio canale. Tanto è gratis. Andate su Facebook. E... Digitate Nunzio. Quattrochi pagina ufficiale. Ciao.